Che vogliamo pensare? Se alza la quota dobbiamo pagare? La situazione è sempre peggio, va sempre peggio, perché la gente spende di meno e purtroppo le tasse sono sempre di più. E alla fine accolta con un misto di rabbia e rassegnazione, la tanto temuta stangata fiscale ha colpito anche l'Aquila. Gli aumenti deliberati della giunta comunale sono stati resi necessari, ha spiegato l'assessore al bilancio Lelio De Santis, dal fatto che difficilmente quest'anno il governo trasferirà tutti i 17 milioni di euro per coprire le minore entrate causa sisma. E così la tasi, la tassa comunale sui servizi, passerà dal 2 per mille al 2,5 per mille. L'aliquota Imo, che interesserà i possessori di seconde case e abitazioni di lusso, passerà dal 7,6 all'8,1 per mille. Aumenti anche consistenti della Tari, la tassa sui rifiuti, che colpirà in particolare le utenze non domestiche, quella ad esempio di bar, ristoranti, pizzerie, ortofrutta, pescherie e banchi del mercato. E tra i commercianti, già piegati dal crollo dei consumi, monta la protesta. Non si campa più, non si va più avanti, non si arriva a fine mese. Purtroppo il lavoro è questo qui, il mercato è tutti i giorni, giornaliero, sei giorni su sei. Si lavora soltanto un po' il sabato, gli altri giorni niente da fare, niente lavoro. Non siamo soddisfatti dei servizi del comune.